Sono appesi ad un filo da ben 4 anni gli ex lavoratori del polo elettronico dell'Aquila che dovrebbero tornare a lavorare nella nuova Accord Fenix. Il finanziamento di 10 milioni e 600 mila euro circa è stato concesso e la Accord a 6 mesi sono partiti a luglio per aprire lo stabilimento all'Aquila che in due anni dovrebbe dar lavoro a 120 lavoratori. L'Accord Fenix ha posto però un vincolo che i capannoni industriali diventino di sua proprietà. E mentre il commissario Vidal per la parte di FIMEC si è attivato per pubblicare un bando nella parte di proprietà del comune al momento resta l'affittuario che ha un contratto di 10 anni dunque quel capannone va ricevuto al comune. Abbiamo chiesto un incontro prima delle ferie a Accord Fenix per capire meglio com'è la situazione noi del sindacato ci hanno promesso che a settembre facevamo questo incontro ad oggi ancora non vediamo nemmeno l'azienda che ci confoca per discutere queste problematiche. Sembra essere questo il nodo, resta il fatto gravissimo dei quattro anni passati denunciano i sindacati e il rischio che poi alla fine non si faccia nulla. Il tempo vola, noi siamo in attesa, tengo presente che ormai andiamo verso i quattro anni e comincia a diventare una situazione. Noi ci auguriamo che nel breve di pochi giorni il comune, perché sappiamo che da parte del commissario Idale stanno procedendo anche loro a fare questa specie di asta. Io mi auguro che il comune, perché adesso il pallino sta in mano al comune, su questa cosa vada davanti, perché si può rischiare veramente di arrivare a sei mesi e non aver fatto niente, sarebbe molto grave. cioè responsabilità sarebbero a questo punto della politica.